Yugi è tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi siamo qui con un nuovo momento spese pazzi impreviste ebbene sì diciamo che a sto giro è andata abbastanza bene perché è tutta bella smistata negli album quindi anche per farvi vedere le carte sarà molto ma molto più semplice anche voi riuscirete riuscirete a capire meglio che cazzo ho comprato perché diciamo che gli ultimi video sono stati un po' confusionari soprattutto l'ultimo inoltre se volete liberarvi di carte Yugi, Magic, Pokemon, Dragon Ball, One Piece, Forza Wheel e Digimon trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare ma ovviamente finirete in questa serie di video ma quello era abbastanza scontato detto questo procediamo io partirei con questo che è quello un po' più scarno un po' più povero di sostanza per andare poi alla fine con la roba veramente grossa detto questo andiamo allora partiamo da un presupposto il lotto che ho acquistato nel pratico è formato da carte GOT ed Edison quindi praticamente tutta la roba che si gioca in quel formato ma vabbè andiamo a vedere allora qua ho un po' di roba italiana inglese e coreana come potete vedere infatti ho questo bellissimo golem di lava secret l'unica cosa che non ha la nostra rarità e quindi è un po' buona merda vabbè diciamo che sta roba l'ho pagata troppo ma solo perché era di un ragazzo che conoscevo e gli sono venuto molto incontro molto troppo incontro ma vabbè poi abbiamo bls i decoici i kiko solo due vabbè qua abbiamo un trespie in coreano tre di questi due due testa lo sforza esiliata maghi della fede assalitore sanghan signore dei vampiri vabbè nel pratico qua è principalmente tutta roba comune vabbè tranne lui che è ultra che usciva da pgd e poco altro nel senso vabbè qua carino serpente sinistro la fenice sacra è super la cdiacomo stessa cosa ci sono due livelli limiti a reb che ho scoperto costare incredibile una roba assurda tipo 3 euro poi vabbè di foil l'abbiamo questo che è molto bellino nm tanta roba come carta proprio un bell'artwork tutta qua qua tutta bella incisa che figata poi abbiamo vabbè un tributo torrenziale spero ce ne siano di più rispetto a uno solo vabbè palese che quello foil doveva essere uno solo eh vabbè comunque non è male tanto ingotto mi sembra se ne possa giocare uno solo non voglio di cavolate eh non me lo ricordo poi abbiamo vabbè altra palta eh xing xeng hu e vabbè armature legame dispositivo e boh questo è il drago gaia qualcosa trap dash shot è carina sto sto schifo qua che costa una fracca usciva da pgd e da mfc se non sbaglio e mostro l'incarnato vabbè passiamo oltre allora andiamo col primo album corposo quello di gotto che abbiamo della roba veramente interessante non come quell'altro qua è tutta roba ita o inglese allora abbiamo qua tre blade knight da duel terminal poi don zalong ce ne dovrebbe essere un altro qua si uno gold no due no tre gold e uno da l'art bellino poi vabbè forza esiliata distrutta spadaccini distrutti e poi poi abbiamo tre assalitore tre tigre reale wangu che costano una fracca poi striker ninja americani che non stanno niente peccato vabbè sono da shiva quindi set del cazzo poi il maestro sasuke maestro ninja no due poi da daza signore gorilla dd una delle carte più belle del formato vabbè poi abbiamo tre gorilla berserk tre bazoo manjanima ah ragazzi ovviamente visto che ho fatto questo ritiro probabilmente usciranno molte decklist del formato gott ed edison sul canale avrete diciamo questa serie di video poi abbiamo tre spie che queste sono in italiano lo secret poi tre magli apprendista speed duel land of neptis e quest'altra sempre secret si secret americana poi abbiamo tre magli della fede da daza tre decoici secret doppio assalitore e una guardia custode poi mercanti dark mimic anche questa costa si sei insensata poi tre tsukuyomi tre kiko tre geogen di cui non vedete il terzo sono tutti uguali bls gold no da daza tre draghi del tuono ultra da bll no da lckc poi vabbè stregone del caos cyberstein due secret uno comp super peccato sarebbe stato bella fece del playset poi vabbè magli del caos della ygd poi un berserk shock che non vedete e è un peccato quindi ve lo voglio far vedere assolutamente da dr1 nm perché questo ragazzo glielo ho venduto io e so sicuro che è un bel nm poi abbiamo tre pretasura tre don zalong maestro leggendario jujitsu poi abbiamo tre pomodoro tre angelo e tre ratti giganti tutti secret tutti nm tutti americani parliamone poi abbiamo zombie la soldato cinetico wombatodes poi testalos di cui uno incredibile ultimate america sì americano sarebbe bellissimo ultimate in coreano poi abbiamo zarborg e mobius zarborg super vorrei dire poi abbiamo tartaruga piramide super se non sbaglio esiste pure secret e peccato che non l'abbia realizzata poi vabbè spirito ultra un po di roba in coreano poi poi abbiamo vabbè curibo soldato dell'abisso gardna grande scudo che lo vorrei testare nella mia zona non giocano più a got si sa perché poi vabbè i panda più costosi della storia gatto da soccorso reneco umane il serpente più costoso della storia virus infetta tribù lo so che non è nm controllo comunque perché nel caso lo butterei in collezione subito allora no c'è una grinsetta pure qua giù in fondo peccato vabbè è un lp però bello bello super veramente bello tipo konami quando è che me lo ristampi tipo perché ne vorrei uno bello nm poi abbiamo vabbè tre scambio di anime tre controllo della mente ultimo desiderio schiacciare spade rivelatrici upstar e necro valle poi abbiamo doppio nobiluomo secret da speed duel controllo la mente poi vabbè walk mistico libro della vita ultra libro della luna secret ritorno comuni vabbè peccato poi vabbè i cannoni on the sonic per far cancerogeno e vabbè anfora carità 2 di meno che tipo ce ne ho tanti attualmente prima non riuscivo avercelo uno in gruco adesso ce ne ho tanti poi le meta in coreano capo espiatorio secret poi mostro cancello da daza rinforzi super dai dimmi che super ci sono super poi solo relays limite devo limite area b super un altro tributo ultra anello l'art bello vabbè tre l'hai voluto tu cose a caso tre da trap da shot che anche queste costano io devo iniziare a vendere le jar of grid super anche queste costano una valanga tipo nm non so se in prima o in seconda stanno a 20 euro una roba del genere poi fax wing blast da duel termina sazuki armor super stanno tipo a 20 euro luna decreto reale da daza beh poi luce dell'intervento e vabbè a ok ritorniamo la roba ciotta abbiamo tre meta messi abbastanza bene poi un altro dell'enquaduo in francese e poi un po di fusioni random abbiamo tre limiti due balter terzo però comunque ce l'ho un riper on the nightmare che anche questo è bellino super l'unica cosa che è rovinato poi ruishane super vabbè queste a caso e per concludere vabbè un po di palta generica x anche se questo nm meno in prima sa tipo a 6 euro bene adesso io andrei con l'ultimo album che è quello inerente a edison che anche qua da da joy nel senso parliamo allora già partiamo con qualche bombetta molto bellina abbiamo doppio drago del giudizio in inglese in americano abbiamo un doppio drago del giudizio in americano lumina ultra se mi sembra sempre no in italiano ce l'è vabbè celestia ultra wolf super da load ovviamente quelli non sono nm se lo sarebbe stato molto bello poi abbiamo tre lila ultra tre rico super però non nm jane e cazzi e mazzi poi un gorzo secret da dlg1 questo è proprio bello proprio bello in americano poi poi abbiamo gli onesti da dasa drago armato da dasa anche questo carino poi vabbè sei per drago i caius com un peccato i crescetti giganti anche questi non sono male la truppa super è secret vi racconto un aneddoto su questa carta io non sapevo esistesse secret il giorno in cui l'ho scoperta ne ho comprate 20 copie dal market a cazza senza assolutamente un motivo valido comprate 20 copie poi vabbè gail da dasa e lui che non ricordo come si chiama e il discendente dopo averlo letto va bene poi abbiamo tre draghi delle macerie tre raio sempre rubinati due denti di leone tre pacchi cefalo grandiosa talpa ultra poi vabbè acci signore cristia rana degli alberi nero brillante luce consacrata poi roba vulcanico che secondo me è veramente hard non so quelli vecchi però nel senso fanno la loro porca figura tre gusci due demoni un cacciatore cecchino poi vabbè tre diva tre mangiatore no che cazzo sto a dire pupazzo di neve carnivoro e m era andata in crash totalmente il cervello poi vabbè un doppio malicius ragazzo diamante tre neosalius che vabbè raga da due il terminal incredibili questi nero fanno la loro porca figura poi vabbè strato prodigio o vabbè i corvi gli zombie goblin anche questi da due il terminal coi pallini sono cose stupidissime ragazzi però si metti dei pallini così con scritto due il terminal e la gente va fuori di testa poi vabbè abbiamo le ricariche solare da lodd 2 sarcofaghi ricarica super tre mostri incarnato giardino nero che è salita stecca quello secret poi vabbè ragazzi follia a parte che è una carta incredibile troppo bella ma cioè secret così è follia poi vabbè abbiamo il riaccendere e le fusioni miracolo emergenza che se fosse stata secret sarebbe stata un pochino più bellina poi vabbè pescata del destino anche questa due il terminal fascino il foolish burial in americano peccato che non è l'art però stica che ce l'ho comunque l'art poi vabbè terraforming ultra che raga veramente l'ho vista secret e me sono innamorato poi poi abbiamo oppression anche questa sta a troppo per quello che fa poi vabbè prigioni catena demoniaca e cammino luce di stelle sordisci trappole a tirare il tappeto che senza senso il prezzo che ha 4 euro tipo rovinato poi passiamo all'extra che anche qua c'è roba roba oeste vabbè a parte questo che non sta un cazzo questo non sta un cazzo questo che tipo sta a 50 centesimi questi stanno a un euro l'uno poi abbiamo doppio drago catena di ferro che nm stanno sui 6 euro cad poi maestro armatura la nera in prima questo 20 euro li fa poi abbiamo vabbè drago destino imperatore re ad essere nato drill warrior arciere ottame antico drago fatato e vabbè il goio all'androide sea dragon che questo è salito di prezzo per colpa mia ve lo dico tranquilli per concludere perché tanto oltre i sincro e le fusioni non c'è altro abbiamo 3 absolute zero e il chimera tech poi vabbè c'è un po di roba random tipo i capri queste i pezzi di exodia poi gg basta abbiamo finito e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate nel senso sto video nel pratico si è un lotto che ho ritirato ma praticamente c'è tutto di entrambi i formati quindi se vi serve qualche idea su cosa recuperare ve guardate il video dite a appello ha comprato questo lo compro proprio io ringraziate cioè quando vi troverete senza un euro perché v'ho convinto a spendere centinaia d'euro in carte potete insultarmi su instagram ha visto che ho spammato instagram c'è anche twitch qua sotto in descrizione follow atemi che a breve si ricomincia con twitch detto questo ragazzi statemi easy e noi ci vediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti